Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Per il calcio di Serie D il Campobasso sarà impegnato nella seconda trasferta consecutiva. Domenica viaggia verso Recanati. Da oggi per i prossimi dieci giorni la Serie D richiamerà le proprie squadre ad un impegno maggiore. Si gioca infatti tre volte domenica, mercoledì e domenica 5 novembre. Focus puntato sul Campobasso che andrà a Recanati. Ospiterà l'Aquila e tornerà in trasferta nella Repubblica di San Marino. Foglia Manzillo si gode il buon pareggio di domenica che, risultato a parte, si presta anche ad altre considerazioni. Positiva la prova del primo minuto di Gerardi a centrocampo che di fatto finora è stato un'ottima riserva. Probabilmente è stato vittima di un calo fisico ma c'era da aspettarselo tant'è che ha dato vita. Ad una staffetta con Leone. Quest'ultimo non era al meglio dopo una botta rimediata la settimana precedente. Decisivo il suo ingresso per l'Averve conferita e per il 2-2 realizzato. È il terzo gol segnato da un centrocampista diverso. In questo senso sembra stia facendo breccia all'appello dell'allenatore rosso-blu che ha invocato spesso anche le reti, non solo degli attaccanti, di D'Agostino in particolare. Altrettanto positivo l'ingresso a gara in corso di Sorrentino. Ricordiamo che il Campobasso ha chiuso con 2-99, cioè Sorrentino e Bisceglia, il primo, sta insidiando proprio vecchione per una maglia dal primo minuto. Tra le altre note buone, senz'altro una crescita anche atletica di Gurma che non sarà propriamente un cannoniere ma si rivela utilissimo sia in fase di copertura che in quella offensiva. C'è il suo zampino sul gol del pareggio di Leone a tempo scaduto. Rabbiosa la reazione nel finale di gara del Campobasso, probabilmente quella voglia che non si era vista nell'ultimo scorcio contro gli abruzzesi del San Nicolò. Cose buone, cose meno felici, quelle che Foglia Manzillo ha subito messo in evidenza nelle interviste a fine gara, vale a dire due distrazioni. La prima in fase di marcatura sul gol del pareggio di Lispi dove uno dei giocatori rosso-blu è uscito troppo molle. L'altra è stata un'ingenuità di Capozzi, costata il calcio di rigore del parziale vantaggio del Castello. Come si può evincere dalla giornata numero 8 nel girone Abruzzo-Marche-Molise? Il filo che separa le vittorie dalle sconfitte o dai pareggi è sempre molto sottile. A Castelfidardo il Campobasso ha rischiato di vincere ma anche di perdere e alla fine ha pareggiato. Non esiste nulla di scontato ma soprattutto non esistono squadre padrone del campionato. Da registrare una sbandata interna del Pesaro contro una vastese che ha vinto al Benelli la quarta partita consecutiva e si appresta ad ospitare il Nero Stellati. In vetta è salito il Matelica ma dal primo al quinto posto si gioca nello spazio strettissimo di appena tre punti. Risale piano e non è da sottovalutare il San Marino che si colloca al sesto posto vincendo la terza partita nelle ultime quattro. È saltata la terza panchina in una settimana. Dopo quelle di Agnone Recanatese cambia anche il Fabriano che esonera Fenucci per chiamare l'ex Campobasso ed Olimpia Agnonese Sauro Trillini. Mister Fenucci paga le sei sconfitte consecutive di cui la prima maturò proprio a Selvapiana lo scorso 17 settembre. A proposito del pareggio del Campobasso a Castelfidardo sentiamo il parere del portiere Marchigiano Selvaggio, abilissimo in alcune circostanze. Raccontaci la punizione del vantaggio del Campobasso. Ti sei tuffato ma una deviazione ti ha messo fuori causa? Sì, io avevo visto partire la palla da sotto le gambe dei giocatori. Mi ero buttato abbastanza a basso perché comunque la palla ero sicuro di prenderla. Però c'è stata una deviazione da parte di un mio compagno di squadra che l'ha presa con la testa e me l'ha alzata. Purtroppo la palla è entrata. Esattamente chi? Se ti ricordi? Leo Grazioso. Leo Grazioso ha deviato fatalmente questo pallone alle tue spalle. Per quanto riguarda la partita in generale abbiamo parlato di pareggio giusto. Certo, io penso sia un pareggio giusto perché tutte e due le squadre comunque ben giocate entrambe per vincere. Loro sono stati fortunati sulla punizione, noi siamo stati fortunati sul palo che avete preso voi e quindi penso sia giusto il pareggio anche se c'è un po' di rammarico da parte nostra perché stavamo vincendo. La traversa probabilmente ti riferisci alla traversa pre-goal del 2-2. Anche lì il pallone si è impennato. Poi un bel gol quello di Leone dobbiamo dire. Sì, sì, assolutamente. L'ha tirata bene. Penso che cercava di tirarla là. L'ha tirato bene, l'ha presa bene. È stato un bel gol. Bisogna fare complimenti al Castelfidardo, mai così in alto, ma soprattutto frutto di prestazioni e c'è il merito dietro questi 17 punti. Certo, noi ogni settimana lavoriamo sempre di più, sempre meglio e diamo tutto a noi stessi e speriamo in bene per questa stagione. Anche l'Olimpia agnonese sta preparando una trasferta e Granata saranno ospiti dell'attuale capolista Matelica. La cura di Meo ha dato i suoi primi tre punti. Domenica contro la Re Canatese si è interrotta la serie negativa dell'Olimpia agnonese, che durava da quattro turni. Testa adesso già la difficile trasferta di Matelica, sicuro assente Barbosa, che ha rimediato un'espulsione domenica. Pino Di Meo potrà contare sul morale della squadra, alto dopo il successo interno con la Re Canatese. Intanto bisogna usare le energie in vista del turno infrasettimanale. In programma mercoledì 1 novembre al Civitelle arriverà il San Marino, proprio l'ex squadra del mister Granata. Ma tornando ai 90 minuti di domenica, il commento di Rullo. Non siamo stati belli. Oggi era importante vincere e essere concreti. L'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto con il cuore, con il carattere e con l'organizzazione che il mister ci ha potuto dare una settimana. Anche se oggi non abbiamo fatto granché con fraseggi, con la palla, però è importante vincere, soprattutto in casa, per dare una svolta a questo campionato. Adesso si può lavorare in modo più sereno. Veniamo da quattro sconfitte dove sappiamo che in settimana si lavora un po' con il muso perché viene a mancare la fiducia, viene a mancare la sicurezza nei giocatori, soprattutto nei giovani. E' una fase importante della loro crescita. Vincere aiuta a vincere, ti fa fare qualcosina in più, ti fa rischiare anche la giocata particolare, dove magari prima facevamo il compitino. Adesso possiamo guardare con più sorriso il futuro, ma c'è tanto da lavorare ancora comunque. Anche quest'anno la ditta Sport e Impianti Gioca Gio ha aperto le selezioni per accedere alla borsa di studio Angelo De Bernardo per studenti ed atleti dell'anno 2016-2017. Gli studenti che intendono partecipare devono far pervenire presso la scuola di appartenenza entro le ore 12 del 4 novembre la documentazione presso il comitato regionale Coni del Molise. Calcio Balilla, il torneo itinerante di Trivi, Sonno, Biliardi e Giochi ha fatto tappa prima ad Alfedena, provincia dell'Aquila, poi a Colletorto. Le prossime tappe saranno Torella del Sannio il 18 novembre, Trivento il 3 dicembre e Campolieto il 10 dicembre. Le iscrizioni sono già aperte per i tornei di Trivento e Torella e apriranno il prossimo sabato per il torneo di Campolieto. Calcio a 5 di Serie B prepara la trasferta di Cassano, lascia a Minad, obiettivo riscattare il pareggio contro l'Altamura. Paolo Pizzuto come commentare un pareggio 5 a 5 che nel corso della partita vi ha visto praticamente sempre o quasi largamente in vantaggio. in prima frazione 4 a 1 avanti, una fase della seconda parte di gara 5 a 3 e poi questo 5 a 5. Sono successe tante cose, compreso due espulsioni per la tua squadra. Diciamo che non ci siamo fatti mancare niente dal punto di vista degli episodi, delle emozioni. È stata una partita che abbiamo condotto per la maggior parte del tempo. Il vantaggio largo del fine primo tempo non ci ha permesso comunque di... Abbiamo iniziato a gestirlo ma poi sono rientrati piano piano. Sul 5 a 3 potevamo chiuderla. Ci sono stati tanti episodi anche al loro vantaggio per cercare di rientrare. Sono riusciti nelle occasioni che meno ci potevamo aspettare. C'è stato sicuramente un calo dell'attenzione inevitabile, un calo fisico in determinate occasioni della partita e quindi portiamo a casa un punto striminzito e un po' di amarezza. Da parte dell'avversario credi possa essere legittimo questo pareggio considerato che è una squadra che ci ha creduto fino alla fine e ha fallito quattro tiri liberi. Il 5 a 5 come risultato secondo te ci sta? Ci sta. Nell'analisi complessiva della partita non c'è da lamentarsi o da ricriminare. Quello che dispiace è il vantaggio che si poteva gestire diversamente, la possibilità di non calare e non concedere determinate occasioni che hanno permesso poi alla fine di arrivare al pareggio. Però il risultato è quello che il campo ci dice, noi lo accettiamo e purtroppo portiamo a casa un po' gli omeni contati per le due espulsioni, però ripartiremo da quelle che sono le indicazioni positive che comunque la squadra ha dato. Ovviamente proprio le espulsioni, al di là del danno che hanno portato a partita in corso, il danno maggiore è quello che porteranno per la partita di Cassano, avrai due uomini indisponibili. Sì, gli arbitri sono qui e sono comunque un fattore, una componente della gara. In qualche circostanza hanno fatto delle scelte discutibili, le dobbiamo accettare, non possiamo stare lì a lamentarci più di tanto. E quindi in ottica della prossima partita che potevamo avere l'opportunità di giocare con una rosa più ampia, avremo gli uomini che comunque saranno in condizione di giocare e anche cercheremo di integrare con qualche under per arrivare comunque a una rosa completa. Sabato appuntamento all'Ex Gil per la presentazione della 44esima edizione della Sue Giù, gara podistica amatoriale organizzata dal gruppo sportivo Virtus in programma il 12 novembre. Bocce questo fine settimana e in programma la 15esima edizione del Memorial, commentator Quindino Pallante, gara a carattere regionale, specialità individuale, organizzata dalla bocciopila frosollonese del presidente Pasquale Mangione. Calcio regionale in campo tra poco per il ritorno degli ottavi di Coppa Italia, Boiano-Frentania 0-3 all'andata, Treppini-Sesto Campano ripartono dallo 0-0, il Guglionesi ospita il Gambatesa forte del 2-1 dell'andata, a Fornelli-Vastogiratti-Campopasso 19, 4-3 all'andata, Isernia ospite del Vulcania per ribaltare il passivo di 3-1, al Cannarse il Termoli se la vedrà con l'Alife, si riparte dall'1-0 per i giallorossi, il Benafra forte del 4-1 dell'andata, attende il Termoli 2016, queste gare avranno inizio alle 15.30, posticipato alle 18, il fischio d'inizio tra Olimpia Riccia e Ururi, 2-2 è finita all'andata. Isernia mantiene l'imbattibilità in campionato. Domenico Davide, centrocampista dell'Isernia, ovviamente non è la prima volta che giochi qui d'avversario, insomma qui hai vissuto forse bei momenti, crediamo, ma vieni qui con l'Isernia, ti prendi questo primo posto, settima vittoria consecutiva, è stato lanciato un segnale importante al campionato. Sì, sì, qui già ci sono stato, tre anni fa ho trascorso un bel campionato, però adesso abbiamo fatto una bella vittoria oggi, 2-0, però non è stato facile. Il primo tempo ci hanno messo sotto, poi il secondo tempo abbiamo sfruttato un bel d'occasione e l'abbiamo messa dentro. Ecco, abbiamo visto come magari stai crescendo, perché nella passata stagione hai vinto campionato e coppa con il Macchia, quest'anno giochi ancora per vincere, diciamo hai avuto uno staff tecnico nella passata stagione che ti ha cresciuto moltissimo, quest'anno sei qui per perfezionarti ancora? Come, come, l'anno scorso hanno creduto tanto in me, sono arrivato, mi hanno accoltato alla grande, adesso sono qui per vincere, andiamo avanti sempre per vincere. Si è interrotta la serie positiva della Frentania contro il Vasto Girardi. Era un rientro importante per te De Vita, tra l'altro sei entrato in campo anche acclamato dal pubblico, questa è una cosa che sicuramente ti ha stimolato, ti ha fatto piacere, hai aspettato anche lo slancio per tornare in campo dopo diverso tempo, però è tornato di nuovo l'infortunio, che è successo? Quello che è successo oggi è una cosa molto lieve a quello che è successo quattro mesi fa, dalla cui passerà subito. Io volevo solo ringraziare la società, la squadra, tutti i miei compagni, il mister, in tutto, che mi sono stati vicini in questo momento, veramente era un incubo per me, non passavano mai questi quattro mesi. Vorrei ringraziare a loro perché non hanno smesso mai di credere in me, mi hanno fatto sentire sempre importante, come avete visto anche oggi il pubblico, loro attendevano questo rientro, che finalmente anche per me è arrivato. Senti, tu ti sei guadagnato per ora di conferma, grazie a tanti gol fatti l'anno scorso, alla grande serietà che hai messo in campo, è questo un onore per un giocatore, quindi è giusto che ti abbiano confermato, come è giusto che il pubblico ti ha acclamato quando sei entrato in campo. Adesso però devi subito tenere pronto per una nuova chiamata, quella in campo da titolare. Sì, questo qua è un lavoro che devo fare con il passare delle settimane, con il passare degli allenamenti, perché purtroppo non è che entri e hai vita facile, no. C'è gente che si allena ad agosto, io sono tornato ad allenarmi da appena due settimane, quindi mano a mano cercherò di recuperare la mia posizione là, tra gli undici titolari. Poi il mister valuterà anche lui se è giusto che giochi titolare oppure o no. Senti, questa frentania deve cercare di salvarsi, quindi c'è da stringere i denti, soprattutto da lavorare tanto. Ma io sono convinto che ci salviamo, perché la squadra c'è, poi il mister ha grandi capacità nel tenerci sotto controllo, nel darci un gioco, negli allenamenti lui sfrutta tutte le nostre capacità, quindi sicuramente ci salveremo, senza ombra di dubbio. Mantiene il ritmo delle big il Termoli, ai nostri microfoni il dirigente Carmine D'Angelo. Carmine D'Angelo, presidente del Termoli, sempre un immenso piacere scambiare qualche battuta con lei, con la sua inerzia, la sua personalità. Un Termoli molto sbarazzino che vince 6-1 in casa dello Spinete, portando a casa un'altra vittoria fondamentale. Siamo stati fortunati. Vabbè, diciamo che scherziamo un po'. Diciamo che oggi ci è andata molto bene, abbiamo giocato sempre il nostro solito con molta verba, molta determinazione, i ragazzi sono stati bravi in campo, il campo ci ha dato ragione, naturalmente siamo anche legati un po' alla fortuna. A questo periodo ci sta girando veramente bene, siamo contenti, fiduciosi dell'entourage, della squadra e di tutti, quindi continuiamo il nostro cammino. E siamo, come si suol dire, pronti e determinati già al proseguo del campionato, quindi domeniche in casa con un Guglionese, una squadra molto ostica, dura, e quindi naturalmente dobbiamo cercare sempre di fare del nostro bene. Ecco, abbiamo visto che rispetto alla passata stagione è tutto un altro termoli, molto magari più forte in molti reparti, con delle belle individualità. Perché no a dicembre, se magari siete ancora lassù, si può pensare a qualche nuovo acquisto? Beh, diciamo che una squadra che protratta più altro in base alla programmazione che è stata fatta la passata stagione è ben più diversa, quindi l'anno scorso abbiamo riportato un titolo a termoli, quindi per cercare di fare un campionato, dubbiamente non di vertice, ma un campionato a salvarsi, ci siamo riusciti. Quest'anno gli obiettivi sono ben diversi, speriamo che duriamo, speriamo che comunque noi ce la mettiamo tutta, i giocatori pure, l'entourage c'è, e quindi in noi regna tranquillità finora, e quindi speriamo che questo si prosegue, e spero che sia un bel futuro per il prossimo. Perché poi Termoli è comunque una piazza importante, che magari sta mancando anche su campionati di prestigio. Beh, certo, diciamo che comunque anche un campionato di eccellenza è dure, quindi diciamo ci vogliono dei soldini, c'è un entourage di giocatori che qui passano, e quindi naturalmente a ognuno il suo, naturalmente, quindi dobbiamo cercare, noi ce la mettiamo sempre tutta di cercare di fare una bella figura. Stiamo riportando entusiasmo alla cittadinanza, quindi speriamo che i tifosi ci accolgono ancora più con forza, con determinazione, e questo diciamo è il nostro obiettivo, di riportare appunto entusiasmo, di riportare gente al campo e cercare di fare bene per il proseguo del nostro obiettivo, del nostro campionato. Per il Ladoiano contro il sesto campano è arrivato un punto che fa morale. Diego Di Stasi, portiere del Boiano, Pariggio sicuramente che vi sta stretto per quanto visto sul terreno di gioco, avete avuto l'opportunità anche di raddoppiare e di chiudere la partita, non è stata sfruttata, e poi come spesso accade nel calcio, gli avversari scambati il pericolo, riaddrizzano il punteggio. Sì, la partita penso che sin dall'inizio l'abbiamo condotta noi, poi purtroppo a metà del secondo tempo c'è stata questa loro ripartenza e sono riusciti a raggiungere il pareggio, dopo le idee di gioco erano un po' caotiche, quindi non siamo riusciti a passare in vantaggio di più. Boiano sicuramente migliore rispetto a quello visto domenica scorsa, le occasioni le ha create, e poi l'handicap è stato quello di non chiudere la partita, ma cos'è che manca effettivamente a questa squadra per raggiungere il risultato pieno? Ma guarda, cosa manca non te lo so dire, anche col campo di pietra in casa siamo stati bravi a riacciuffare la partita dopo essere andati sotti a piedi monte, invece uguale sull'1-0 ci hanno raggiunto e oggi la stessa cosa. Siamo anche un po' sfortunati perché, come abbiamo detto, potevamo chiuderla in più di un'occasione e purtroppo hanno pareggiato. Che idee si è fatto di questo camminato di eccellenza? La lotta in zona salvezza è molto serrata e quindi ci sarà comunque da lottare fino alla fine. Sì, per quanto riguarda la salvezza penso che siamo molte squadre che lottano per questo risultato. È un camminato comunque, per la salvezza è sicuramente molto equilibrato, basta vedere la classifica e quindi dovremo giocare e lottare fino alla fine. C'è tempo fino al 31 ottobre per iscriversi al corso rivolto ad istruttori non qualificati che svolgono attività di informazione e preparazione alla pratica calcistica giovanile in ambito delle scuole calcio e dei centri calcistici di base delle società sportive affiliata alla FIGC, organizzato dal settore giovanile e scolastico della FIGC in Molise. Calcio regionale questo pomeriggio test amichevole per la polisportiva Fortore alle 15.30 sul campo di San Bartolomeo in Galdo, la primavera del Foggia. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio!